Come sei Alba? Allora sono con Jennifer Rodriguez, ciao Jennifer come stai? Bene grazie, voi? Benissimo, senti da un po' che non ti si vede, cosa stai facendo? Allora sono, intanto il mese scorso sono uscita con il mio secondo cd, Sexy DJ, un pezzo house per questa estate poi c'ho dei progetti dopo l'estate a livello cinematografico Benissimo, allora a parte il lavoro quest'estate cosa farai? Dove andrai in vacanza? Guarda io di solito faccio un po' vacanza qua in Italia che non posso fare a meno poi come di consueto ogni anno vado a casa, vado a Venezuela a fare vacanza delle vacanze Se c'è questione di cuore come siamo? Liberi o siamo accompagnati? Sono felicemente accompagnata Benissimo, perfetto, allora buona serata Jennifer, grazie Grazie, a voi